Sono veramente molto molto contenta di dare il benvenuto qui con noi alla professoressa Barbara Bracco dell'Università Milano di Cocca, è autrice di numerosissimi studi su vari temi, però ci tenevo a ricordarne in particolare due, uno è forse tra i suoi lavori più famosi che è La Patria Ferita, i corpi dei soldati italiani e la Grande Guerra, edito aggiunti nel 2012 e l'altro è uno dei suoi ultimissimi lavori, una monografia, la saponificatrice di Correggio, una favola nera e di Zalmulino nel 2018, quindi benvenuta Barbara, io lascio già la parola a te, siamo tutti molto ansiosi di sentire cosa ci racconti su questa tua nuova ricerca. Grazie mille, grazie Anna, anche per aver ricordato le mie strani percorsi più recenti, quelli legati alla cronaca nera a cui però tengo molto. Dunque vi ringrazio molto perché mi state dando l'occasione per illustrare una linea di ricerca, un progetto a cui tengo molto. In questo seminario io sarò molto sintetica, cioè vi proporrò alcuni temi nella convinzione di non riuscire ovviamente a essere esaustiva, a restituire un quadro esaustivo di una fonte e di un tema molto complesso, quindi quasi certamente non riuscirò a soddisfare tutte le vostre curiosità intellettuali. In questo incontro lo vorrei strutturare su alcuni nodi. Il primo, vi illustrerò in primo luogo ovviamente la fonte oggetto del mio progetto di ricerca e oggetto ovviamente di questo seminario. In secondo luogo cercherò di indicarvi, di delineare da dove viene la domanda storiografica di ricerca che è alla base di questo progetto. In terzo luogo il contesto storiografico. Opero su un tema che è già stato sollecitato, rivisto da una letteratura pressoché sconfinata. Non posso fare riferimento ovviamente a tutta questa letteratura, peraltro sono presenti come il professore Antonio Gibelli, autori che ne sanno più di me su alcuni aspetti. Un quarto aspetto è la particolarità della fonte che vi presenterò. Il carattere di questa scrittura popolare, chi scrive con quale finalità e insomma cercare di strutturare quello che è il discorso alla base di questa fonte molto particolare. Ed infine, ma molto rapidamente, indicherò i possibili sbocchi di questa ricerca. Allora, prima di tutto parto da una cosa molto semplice. Il progetto di cui oggi vi illustrerò le linee generali è un progetto che nasce da una curiosità sorta alcuni pochi anni fa, quando sul sito 14-18 vennero pubblicate poco più di 3.000 di queste cartoline al milite ignoto. Ho poi scoperto che quella era soltanto una minima parte di un fondo molto più ampio, dimenticato negli scantinati dell'Istituto del Risorgimento di Roma, che contengono oltre 30.000 cartoline. Su questo io ho presentato un progetto al Ministero dei beni culturali che mi è stato finanziato e che ha la finalità prima di tutto di arrivare a una scansione di tutto il materiale, di tutte le cartoline, rendendolo quindi poi fruibile sempre sul sito 14-18, ma ovviamente il progetto ha anche la finalità, lo scopo di studiare queste cartoline e di produrre, come vi dirò alla fine, alcuni esiti storiografici e anche diciamo di fruizione, divulgazione più ampia. Dunque, parto dal primo punto, cioè l'illustrazione dell'oggetto di questo progetto e di questo seminario. La cartolina al Milite Gnoto è una delle tante iniziative adottate dal Comitato per l'Enoranza Milite Gnoto nel 1921. Ancora oggi, sul complesso rituale strutturato dal governo Bonomi, ma su cui si spende soprattutto Gasparotto, Luigi Gasparotto, ancora oggi, dicevo, non abbiamo un quadro completo delle tante piccole iniziative poste a corredo del rito vero e proprio. Tra queste c'è sicuramente l'invenzione, uso appositamente questa parola, l'invenzione di questa cartolina, che nasce come una cartolina con delle finalità simboliche, ma che hanno anche un aspetto di sostegno alla causa degli orfani di guerra. Infatti la cartolina costava soltanto una lira e il ricavato sarebbe stato devoluto poi appunto all'associazione degli orfani di guerra. La cartolina viene, adesso vi mostro subito, ecco, ho voluto fatto mia questa frase di Mark Bloch, perché mi sembra che possa giocare perfettamente con quello che adesso vi sto dicendo, il mio lavoro sulle parole, però le parole, ma è come in questo caso, sono anche cose, per dirla appunto con Mark Bloch. Questa è una cartolina illustrata molto famosa, questo è uno dei tanti documenti con le iniziative appunto adottato dal Comitato Esecutivo per le onoranze al soldato ignoto, questo è l'itinerario e l'orario del convoglio che dalla cattedrale di Aquileia avrebbe portato nel giro di qualche giorno a Roma appunto il sacro convoglio. Questo è un elenco, sono tutti materiali noti, quindi non vi sto rivelando ovviamente nulla di eccezionale, è lo specchio di diramazione con le personalità che avrebbero in rigoroso ordine stabilito dall'alto presenziato alla manifestazione. Anche queste sono fotografie assai note, questa è la cattedrale di Aquileia e ci tenevo però a mostrarvi, a riproporvi delle foto che documentano, testimoniano la presenza forte dei cittadini e delle cittadine italiane lungo tutto il percorso da Aquileia a Roma. Come sapete esiste peraltro un filmato che si chiama Gloria che documenta il passaggio del milite ignoto lungo appunto il percorso stabilito tra Aquileia e Roma. Queste sono fotografie molto belle ma ripeto non sono certo inedite. e questa ultima immagine vi documenta meglio di qualunque altra la partecipazione forte popolare che non è soltanto diretta dall'alto, ovviamente c'è la mano, si vede la mano delle istituzioni ma c'è anche una spontanea partecipazione popolare. Ecco questa è la cartolina, questa è la cartolina appunto congeniata, inventata dal comitato per le onoranze al soldato ignoto divisa come vedete, ma adesso ve la farò vedere meglio, è una cartolina diciamo che è divisibile a metà, qui lo vedete lungo questa filettatura, con le istruzioni che vengono date ai cittadini, lo spazio lo vedete qui destinato a raccogliere una firma, un pensiero o quant'altro da parte del cittadino sottoscrittore e poi c'è la parte chiamiamola del frontespizio con ignoto militi e poi questa illustrazione di Mario Barberis che è stato un illustratore e un pittore che peraltro avrà una curiosa su Duliù, non ho trovato moltissime tracce, quello che sono riuscito a capire è che poi negli anni 20 si dedicherà principalmente a rappresentazioni di tipo religioso. Allora per farvi vedere meglio questa è la parte dedicata alle istruzioni in cui si spiega anche la finalità sociale della cartolina, appunto la raccolta dei fondi a beneficio degli orfani di guerra. Questa è l'immagine, appunto il disegno di Barberis che trovo peraltro molto suggestiva, molto importante che ovviamente riassume in sé una tradizione di immagini di arte figurativa molto legata al paradigma patriottico eccetera eccetera. E infine appunto il frontespizio vero e proprio che assicurava al sottoscrittore, al cittadino anche la franchigia, cioè questa cartolina veniva inviata senza alcun obbligo di francobollo o di qualunque altro tipo di pagamento, di sanzione. Questa immagine invece è una rarità nell'ambito delle 30.000 oltre 30.000 cartoline perché in alcuni casi i cittadini per mancanza di quella cartolina ufficiale si ingegnarono a inviare e delle cartoline normali come in questo caso ed è anche questo un segno della partecipazione popolare che è anche una partecipazione emotiva, molto intima, molto personale. Non posso mandare a Milite ignoto una cartolina ufficiale ma contribuisco comunque regalando un pezzettino, un frammento, un segmento del panorama urbano, quello che è, della mia casa, della mia abitazione. E questo lo trovo una cosa. Ci sono altri casi, non tantissimi, ma lo trovo un esempio interessante per appunto sottolineare la partecipazione popolare che naturalmente è una partecipazione sottoposta anche ad una occhiuta sorveglianza da parte delle autorità perché come potete immaginare inviare una cartolina al Milite ignoto che molti avrebbero potuto leggere può spingere e spingere alcuni cittadini anche a vergare delle parole non esattamente in linea con il paradigma patriottico, con i crismi patriottici che il rito del Milite ignoto impone un po' a tutti. Quindi c'è anche una verifica preventiva della censura. Dunque, dicevo, queste cartoline sono state raccolte in occasione della tubulazione del Milite ignoto in un periodo che va tra i giorni immediatamente precedenti al 4 novembre del 21 fino alle prime settimane del 22. Queste cartoline vengono raccolte probabilmente o quasi certamente con l'idea poi di produrre una pubblicazione, una qualche iniziativa di restituzione simbolica di questa partecipazione popolare che però non si è mai svolta. La cosa interessante è che queste cartoline sono state completamente dimenticate sia dal regime fascista che dall'Italia repubblicana. Forse nel caso ho ipotizzato in un articolo che ho dedicato alle prime 3.000 cartoline pubblicate sul sito 1418, ho ipotizzato che per il regime, per gli standard fascisti questa fosse una celebrazione un po' troppo minimalista, un po' troppo intima, poco monumentale. Mentre per l'Italia repubblicana forse questa fonte restituiva un'immagine che non era in linea o coerente con quello che l'Italia del secondo dopoguerra immaginava di se stessa nel primo dopoguerra. Ho una semplice dimenticanza che è sempre possibile per carità, di fatto queste cartoline sono rimaste nel depositi dell'Istituto del Risorgimento di Roma per quasi un secolo. La scoperta di questo fondo è avvenuta in occasione del centenario della Grande Guerra, da lì l'iniziativa assunta dal direttore, cioè dal professor Marco Pizzo, di fare la scansione di una piccola parte, di un piccolo campione di queste cartoline che poi, come vi ho detto, sono state subito pubblicate sul sito 1418. E' inutile che vi racconti, perché ciò porterebbe via molto tempo, in che contesto siamo. Il Milite Gnoto rappresenta in Italia, come per altri paesi, il simbolo, come recita peraltro opportunamente proprio questa cartolina, il simbolo della morte di massa, in particolare dei tanti dispersi mai tornati dalle trincee di cui è rimasto un nome, ma non il corpo. Il rito del Milite Gnoto è probabilmente uno, se non il rito, la liturgia nazionale più vissuta e partecipata della storia italiana. Intanto per darvi un'idea sto concludendo adesso un saggio sull'elaborazione del lutto a Milano, città per tanti versi centrale nel palcoscenico, diciamo, non solo dell'interventismo della stagione del 14-15, ma anche negli anni successivi, e Milano che non è toccata dal passaggio del convoglio del Milite Gnoto, mette in campo tutta una serie di manifestazioni, il 4 novembre del 21, in una città che all'epoca contava meno di 600 mila persone, il questore e il prefetto calcolano che 500 mila milanesi abbiano partecipato a questi riti. Quindi stiamo parlando di cifre davvero imponenti. La partecipazione, il successo di questo ultimo rito dell'Italia liberale vi racconta però anche qualcosa di più e su questo poi tornerò meglio più avanti. Allora, il fatto di trovare però queste cartoline, che già di per sé stesso è ovviamente un elemento importante, qualche volta i pianeti si allineano per fortuna, nasce però anche da una suggestione, da una riflessione, da una domanda storiografica che mi insegue da alcuni anni. e cioè questo, iniziare una guerra, lo dico un po' brutalmente, iniziare una guerra tutto sommato non è tanto difficile. La prima guerra mondiale nasce, scoppia con una guerra ottocentesca, è uno scontro tra diplomazie, il gioco incomincia a sfuggire di mano, ma dalla, direi, battaglia della Marna in poi, diventa un conflitto novecentesco, apocalittico. E allora il punto è, se non è tanto difficile iniziare una guerra, è complicatissimo concluderla, non solo dal punto di vista diplomatico, militare, economico naturalmente, ma anche dal punto di vista culturale, emotivo. La guerra ha aperto, ha spalancato un universo, un mondo sconosciuto che intacca non solo le coordinate culturali di un'intera società, ma anche dei singoli, delle famiglie, dei nuclei, delle comunità. Ora, come si riesce, se si riesce ovviamente, a sotturare la ferita della guerra? Allora, il problema è quanto continuo ovviamente anche le sofferenze, le emozioni. Faccio subito, metto subito le mani avanti. Il tema della sofferenza del dopoguerra ovviamente non è un tema nuovo, che però spesso e volentieri viene ricondotto un po' genericamente alla tensione politico-culturale che avrebbe portato poi all'ascesa del fascismo, oppure, come sostiene Mario Esnenghi, viene svolto spesso e volentieri in una chiave, il tema della sofferenza, in una chiave pacifista o addirittura moralista. Io su questo non sono tanto d'accordo, perché richiamando le parole prima proprio di Mark Bloch, le parole, in questo caso parole di sofferenza, di lutto, sono cose, cose che vanno studiate. D'altra parte esiste tutta un filone storiografico e quindi limito all'ambito nazionale che è dato dagli studi di Antonio Gibelli, da Caffarena, ma dalla stessa Anna Grillini che molto carinamente ha voluto introdurmi, che insiste molto su una domanda di ricerca che è volta a mettere in evidenza la frattura emotiva e psichica della società italiana, cioè la rottura delle coordinate elementari della vita e della morte, del prima e del dopo. Queste, ripeto, senza eccedere in una retorica, in una narrazione, oggi più che mai, che tende un po' troppo al pianicolamento, per me è un argomento storiografico, forte, denso. Il terzo punto. In un saggio, come vi ho detto prima, pubblicato sull'ultimo numero del 2019 di Memoria e Ricerca, ho già indicato l'intreccio delle letture storiografiche che il progetto sollecita. A parte la letteratura sconfinata che esiste sul primo dopoguerra italiano ed europeo, richiamo qui l'attenzione, la vostra attenzione sulla varietà degli studi che il progetto e la ricerca di questa fonte sollecita. Dalla ricostruzione della storia del lutto, Winter, Becker, tanto per intendersi, alla storia delle emozioni, dagli studi sul rito del mediteri noto, la vita, Tobia, Ridolfi, Miniero, a quelli dedicati alla scrittura popolare, Antonio, Gibelli, Caffarena, Monteleone, Janz e altri ancora. Quindi è un progetto di ricerca ed è uno studio che inevitabilmente vuole e deve mettere insieme percorsi di studi storiografici che spesso hanno viaggiato un po' separatamente, giustamente anche separatamente l'uno dall'altro. In questo sono un po' ambiziosa, cioè vorrei cercare di combinare livelli di analisi, di lettura che generalmente non sempre vengono intrecciati. D'altra parte qui stiamo parlando di una storia sociale, culturale, di scrittura popolare che però ha anche in una stratificazione, se volete, della costruzione della storia, della ricostruzione della storia, ha anche delle implicazioni profondamente politiche. Questa è l'Italia, quella che emerge da queste cartoline, non è tutta l'Italia, ma è una parte del paese che cerca delle risposte intime, personali alla lesione provocata dalla grande guerra sul piano molto personale della rielaborazione del trauma, ma anche dal punto di vista politico, sociale. La parte invece è il punto più importante. Questa fonte può essere studiata avendo ben presente prima di tutto che cos'è l'esperienza del lutto e quante persone verosimilmente siano state coinvolte nel senso della perdita, della sofferenza. Su questo ho già scritto che abbiamo delle possibilità forse un po' approssimative, un po' vaghe, ma posso dirvi, per calcolare diciamo le comunità del lutto, ma posso dirvi senza dilungarmi troppo, che oltre la metà della popolazione italiana venne investita dalla perdita, dalla sofferenza per la morte di un parente stretto, un marito, un padre, un figlio, da un congiunto, da un amico, da un collega. Io ho sommariamente, ma non è il mio mestiere, lo faccio in modo un po' artigianale, consultandomi tuttavia con alcuni demografi storici, ho calcolato che per ogni caduto esista una comunità di 30-40 persone tra parenti stretti e amici o colleghi o fidanzate e quant'altro. Quindi stiamo parlando di numeri davvero imponenti. Queste comunità del lutto sono presenti da quella, dalla cerchia, come le definisce Becker, dalla cerchia più ristretta, cioè quella dei congiunti, alla cerchia più lontana, quella degli amici, dei colleghi, senza che questo voglia naturalmente dire pesare la sofferenza naturalmente. Ecco, queste comunità del lutto noi le ritroviamo anche in queste cartoline. che posso essere, accenno diciamo a quelli che sono gli elementi più importanti, il primo è chi scrive e gli attori di queste cartoline rappresentano un po' tutta la società italiana, sono uomini e donne, adulti e bambini, congiunti di caduti ma anche cittadini verosibilmente risparmiati dal lutto, ma che sono comunque partecipi del clima emotivo, culturale e politico del dopoguerra. Richiamo la vostra attenzione, adesso le farò scorrere queste cartoline per darvi un po' un'idea. Voglio richiamare la vostra attenzione sul contributo che danno i bambini sollecitati spesso dalle famiglie o ancora più spesso dagli maestri di scuola a scrivere appunto al milite ignoto. Moltissimi sono orfani di guerra ma ci sono anche bambini che non fanno riferimento ad un lutto in famiglia. Su questo nell'articolo prima citato di memoria ricerca ho anche cercato di immaginare il peso che questa scrittura, la memoria del lutto abbia prodotto in questi bambini spesso dalle scuole elementari negli anni a venire. Ovviamente sono anche moltissime le donne e la cosa che mi ha molto sorpreso, naturalmente stiamo parlando di una scrittura come vi ho detto prima che tende ad adeguarsi al paradigma patriottico, le donne sono le più scatenate di tutti se così mi posso permettere, cioè sono quelle che più hanno interiorizzato, sono probabilmente anche donne che vengono da ceti medio-alti, che hanno interiorizzato, metabolizzato quelli che sono appunto i modelli narrativi patriottici che vengono peraltro, ma questo non sarebbe un argomento ancora più lungo, che vengono ovviamente dal lungo, ottocento. E poi c'è una terza categoria di scrittori che meriterebbe un saggio a parte ed è quella dei Reduci, che sono probabilmente a parte una comunità di ex combattenti, molti di loro sono già supposizioni nazionaliste o addirittura fasciste, ma le poche parole diciamo in controtendenza rispetto a quel paradigma patriottico nazionalista viene proprio da loro, cioè da coloro che hanno vissuto in prima persona l'esperienza della trincea. da dove vengono queste cartoline? Qui la geografia del dolore è una geografia sorprendente, nel senso che c'è tutta l'Italia, da nord a sud le grandi isole, la grande città, ma anche la provincia. E la cosa interessante è che in questo senso l'invenzione della cartolina è per certi versi geniale, è un modo per coinvolgere tutta quella parte d'Italia che non era stata toccata o neanche sfiorata dal passaggio del convoglio dell'invito ignoto. Moltissime sono cartoline che vengono ad esempio dal meridione, dal centro e dal meridione d'Italia, che non è coinvolto in nessun modo nelle liturgie del dopoguerra e soprattutto di questo rito. Tra l'altro vi ho omaggiato, forse lo vedrete a un certo punto, anche di una cartolina che viene proprio da Trento. Sono tantissime tra l'altro le cartoline che vengono dalle terre liberate, tra virgolette. Che cosa scrivono? Scrivono molto ma non tantissimo, nel senso che esiste una parte che io potrei quantificare in un quarto del totale senza alcun messaggio o solo con il nome e cognome del cittadino o cittadino. Come interpretare questo silenzio? Qui ci sono molte ipotesi che probabilmente non riuscirò mai a confermare. Una è una spiegazione molto semplice, molto banale. Alcuni non sono in grado di scrivere semplicemente. Al massimo non riescono. Questo lo si capisce in alcune cartoline dove la firma è molto stentata. Probabilmente ci sono persone che sono in grado di scrivere proprio nome e cognome e non altro. Ma in altri casi il silenzio può e deve essere interpretato come una scelta di stile, di sobrietà, di intimità con una vicenda anche in molti casi molto personale, molto intima. Per il resto le cartoline portano perlomeno un paio di righe di commento, pensiero, invocazione o come nel caso che state vedendo adesso qualcosa di più. Prevale di solito l'intonazione fortemente patriottica, adottando qualche volta anche un linguaggio alto, moltissime sono le citazioni in latino. O un linguaggio che oggi potremmo definire un po' pretenzioso, ma che tradisce naturalmente il desiderio di questi cittadini di essere all'altezza del rito e del momento particolarmente solenne e difficile. Non è un caso che le scritture dei bambini, ad esempio guidate, ispirate dai maestri o dalle famiglie, siano tra quelle più retoriche di tutte. C'è evidentemente un elemento di condivisione anche di una retorica che deve essere trasmessa anche alle generazioni più giovani. Non sono molti frequenti i riferimenti personali. La perdita del fratello, del marito, del padre ci sono, ma non sono tantissime. La partecipazione intima in qualche modo del cittadino tende in qualche modo a riassorbirsi all'interno di questa scrittura popolare nel suo complesso. Ed è qui il punto. Il punto è, e mi chiedo, se questo paradigma nazional patriottico, talvolta tinte un po' forti, non sia stato utile per molti a riassorbire un senso della tragedia che ha ovviamente anche e soprattutto una dimensione molto personale, molto familiare. Ora per concludere vi mostro appunto un po' di queste cartoline e chiudo poi con quanto mi ero ripromessa di dire, cioè sugli esiti, sul frutto di questo lavoro, di questo progetto. Ecco, come vedete alcune sono anche, in questo caso, sono gli alunni della quarta elementare di Verona ed è abbastanza, sono messaggi chiaramente guidati dalla mano del maestro, ma che ciò nonostante fanno ancora molta impressione. C'è anche qualcuno che si diletta a fare disegnini o altre, altre cose. Sono anche queste scritture di interi nuclei familiari che si firmano. Questo è un altro bambino. Ecco, questa viene da Trento, come vedete. Ancora bambini. Ecco, poi ci sono anche dei sottoscrittori di sottoscrittori di altro tipo. Sono moltissime le cartoline inviate da questa associazione, cioè dalla Confindustria di Bologna, perché di fatto, oltre a rispondere a un appello patriottico, rispondono appunto a quello che è anche un'esigenza benefica a favore degli orfani di guerra. Sono quasi un centinaio. Ecco, ad esempio ho scelto questa cartolina, vedete, viene addirittura da Trapani. Devo dire, non mi aspettavo una presenza del sud così forte. Ecco, questo ad esempio ha la memoria dei compagni morti. Come vi dicevo prima, spesso il messaggio dei reduci, degli ex combattenti è un messaggio molto sobrio e qualche volta inframmezzato da parole, anche un po' di critica. Ma su questo poi torno con l'ultima cartolina. Ecco, qui vedete ancora tutto un nucleo. Questo riconoscersi anche come piccola comunità del luto che nello spazio esigo di una cartolina mette nome e cognome di ogni componente. Devo dire che... Ecco, questo invece è un caso in cui c'è un esplicito riferimento a un fratello caduto. Poi ecco, c'è anche... questa viene addirittura anche in questo caso da Cosenza e come vedete è di fatto una vera e propria lettera. Ecco, questa è l'ultima cartolina che volevo farvi vedere perché qui l'intonazione diventa addirittura sarcastica e certamente controcorrente, contro tendenza rispetto a quelle che avete visto in altre, nelle cartoline precedenti. Ce n'è un'altra che non sono più riuscita a ritrovare diciamo come scansione proprio del cartoncino, di un re educi della provincia di Avellino che addirittura intona un discorso decisamente contro la guerra, contro la retorica della patria che è quasi una rarità. Ecco, questo è quello che volevo farvi vedere. Chiudo ripromettendomi di stare nei tempi che avevamo stabilito dicendo che tutto questo a che cosa porta? Lo studio di questo fondo archivistico e di questa fonte davvero straordinaria dovrebbe produrre in parte per il centenario della tumulazione del milite gnoto una piccola mostra. Peraltro come sapete il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno ha fatto riferimento al centenario del milite gnoto, questo ha scatenato naturalmente militari, uffici pubblici e ovviamente molti istituti culturali. Allora la mia idea è di fare una piccola mostra dedicata appunto a queste cartoline, una selezione che potrebbe essere di un centenario delle cartoline più significative. Ma naturalmente io non mi scordo mai di fare il mio mestiere e cioè quello anche di scrivere e quindi su queste cartoline vorrei arrivare per la fine dell'anno a un volume che anche in questo caso selezioni una buona parte di queste cartoline e le offra in qualche modo anche alla lettura degli storici e o dei cultori di questa storia. Vi ringrazio molto. Eccomi qua. Grazie a te Barbara, è stato indubbiamente un intervento molto interessante. Sono stata nei tempi soprattutto. Perfetta. Benissimo. Veramente perfetta senza bisogno di nessuna sollecitazione di nessun tipo, anzi io l'avrei ascoltata ancora molto volentieri, ovviamente quando uscirà questo volume sarà mio. Naturalmente, naturalmente. E dunque intanto vi ricordo che per domande e interventi potete scriverli nella chat che trovate a destra accanto alla scritta People, trovate chat e potete scrivere. Mentre i nostri ospiti meditano domande e interventi, dici un po' io con qualche cosa che mi sono appuntata, mentre ti sentivo parlare con osservazioni e non proprio esattamente domande, però ecco una cosa di cui hai accennato anche in questo articolo di Memoria e Ricerca che mi ha interessato molto e di cui hai accennato anche un po' anche adesso. Questo uso di uno strumento pubblico, di uno strumento privato, per la comunicazione privata, come è la cartolina, per invece un fine pubblico, una mobilitazione di spiriti e sempre per citare un termine che hai ripreso da Duan Rujo nel tuo articolo, una socializzazione del dolore, che è un'espressione veramente molto bella, molto azzecchiata secondo me. Risulta particolarmente interessante anche proprio nella sua mancanza di contenuto, cioè tu parlavi dell'incapacità a volte di scrivere, quindi di non possedere le capacità di trasmettere il proprio messaggio, ma anche la volontà in qualche modo di ricondurre questo mezzo alla sua dimensione privata, che è anche poi quella del dolore familiare. Quindi questo è un aspetto veramente molto interessante secondo me. E faccio un collegamento, per chi magari ha poca familiarità con questo tema, e faccio un collegamento con le ricerche indubbiamente di Oliver Dianz e con gli opuscoli di necrologio, che anche quelli rappresentano una sorta di veicolo per l'elaborazione del lutto fondamentale e che tra l'altro sono essenzialmente una particolarità italiana. A proposito di questo ti faccio anche una domanda. Hai trovato tracce di iniziative simili in altri paesi europei, magari non necessariamente con le cartoline ma con mezzi simili, o invece capis anche questo come in italiano? No, che io sappia, almeno per quanto riguarda un'iniziativa simile, cioè una scrittura popolare a beneficio, come dici tu, sia del coté privato, intimo, che della trasposizione in qualche modo di questi sentimenti in un quadro pubblico, che io sappia no, però devo ancora finire di fare alcune ricerche. Ottimo. Allora, intanto c'è un intervento di Fabio Caffarena, che leggo ad alta voce. Mi sono imbattuto in un microcaso che alla luce della relazione di Barbara assume un significato meno estemporaneo. Si tratta di una quindicina di cartoline realizzate probabilmente nel 1920 che riproducono i visi dei caduti locali di un piccolo paese ligure, vendute a favore del locale asilo infantile. Sarebbe interessante studiare le immagino innumerevoli declinazioni locali dell'iniziativa descritta da Barbara per capire in essi le discontinuità fra centro e periferia. Molto interessante. Certo. Questo intervento. Posso rispondere subito, molto volentieri, perché Fabio mette in evidenza una cosa giustissima di cui dovrò tener conto. Ad esempio, nel caso di Milano, per il 4 novembre del 21, vengono fatte tutta una serie di cartoline illustrate proprio sulla liturgia milanese. È lo strumento della cartolina che mette in contatto, che opera quella socializzazione del dolore, funzionale a tenere insieme un paese che si sta interrogando sulla voragine della guerra. Nel caso segnalato da Fabio, ma credo che ce ne siano anche altri, cioè di cartoline con i volti dei caduti locali, probabilmente sono quelli che hanno ispirato poi il Comitato per le onoranze al Milite Gnoto a immaginare un'iniziativa analoga, ma su scala molto più ampia, cioè su scala nazionale. Aspetta che Fabio forse vuole intervenire. No, ti ringrazio della risposta. Adesso così, senza aver riflettuto troppo, credevo che invece fosse il contrario da un certo punto di vista, che l'iniziativa nazionale avesse ispirato le varie cose locali. Però in effetti questa tua lettura è molto interessante, che in realtà tutta questa iniziativa parte dal basso, per tutto sommato. È molto probabile, Fabio. In effetti si riflettono poi sulla possibile realizzazione di queste cartoline del Paese Ligure, in effetti forse potrebbero anticipare quella locale. Io ho scritto 20, però non si sa di preciso, può essere 20, 21, però sì, è una cosa su cui mi fai riflettere. Sì, le due cose peraltro, Fabio, non si eliminano a vicenda, nel senso che possono esserci state, è verosimile che ci siano state iniziative che hanno preceduto il 21, il milite ignoto, e che abbiano ispirato anche il Comitato per le onoranze, come è altrettanto verosimile che dopo il milite ignoto ci siano state iniziative molto simili. Questo è molto probabile. Ok, intanto faccio notare al dottor Caffarena che al microfono forse fa danneggiato, non si sente benissimo quando parla. Dunque, c'è un intervento del professor Givelli e nelle cartoline di bambini e bambine, dentro l'impronta ovviamente fortissima delle retoriche patriottiche, ci sono scarti di formità, ingenuità, fraintendimenti che possono lasciare trasparire una scrittura non interamente guidata? Direi mai o quasi mai, Antonio, nel senso che è chiaramente una scrittura molto sorvegliata. Molto sorvegliata. Ci possono essere, mi è capitato di vedere alcune cartoline ad esempio di Deruta, vicino a Perugia, dove ci sono degli strafalcioni ortografici, ma la sostanza è molto ben sorvegliata. Quindi manca un po' di spontaneità? Sì, cioè è chiaro che lì ci sono dei maestri di scuola che si cimentano in un'azione pedagogica con i loro alunni e li invitano a scrivere, quasi sotto dettatura, dei pensieri molto precisi. Poi la forma lascia magari un po' desiderare la parola sbagliata, ma la sostanza è quella lì. E poi Barbara Baldo chiedeva se si possono... Aspetta Anna perché forse il professor Gibelli vuole intervenire. Sì. Posso? Sì. Brevissimi, brevissimi. L'ho fatto la domanda perché io nella mia esperienza... Professore, la interrompo solo per chiederle se può disattivare il video per una questione di privacy della registrazione. Scusate. No, nella mia esperienza di lavoro sulle scritture infantili, diciamo. Certo. Mi sono imbattuto naturalmente sempre nel fatto che si... o quasi sempre che si tratta di scritture molto controllate, ma appunto capitano degli incidenti che possono essere grammaticali, di fraintendimenti sul significato delle parole, o altre cose di questo tipo che appunto aprono degli squarci. Ecco, in questo senso lo ho detto. Certo, immagino e comprendo che in questa situazione il controllo sia stato particolarmente rigido, ma come sfuggono gli errori di grammatica o le imprecisioni possono sfuggire talvolta anche quelli di significato e quindi ecco sarai curiosissimo di capire qualche cosa di più, ma mi capisco che in effetti la faccenda sta in questi termini quindi non c'è troppa speranza di trovare qualche cosa. Ti segnalerò, ovviamente stiamo procedendo alla scansione e alla trascrizione del grosso di queste cartoline. Per quello che ho potuto vedere fino adesso non ho trovato se non degli errori grammaticali, ma è chiaro che esiste in combe su queste cartoline dei bambini la solennità del momento che induce famiglie e maestri ad essere molto attenti a quello che si scrive. Molto bene, allora se non c'è altro su questo particolare tema leggevo l'intervento di Barbara Baldo che è una richiesta siccome è entrata tardi chiede se si possono ripetere le tappe geografiche del convoglio all'inizio se non sbaglio hai mostrato. Certo, lo posso far rivedere senz'altro così scusate ok vedete sta caricando ah perfetto ecco qua eccolo qua riuscite a leggere forse va la pena se ingrandisce un attimino vediamo se riesco a guarda in gioco ah sì 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 ecco adesso si vede bene almeno io vedo bene tra l'altro il convoglio appunto da Aquileia a Roma fu più lento di quanto si fosse previsto proprio per la presenza massiccia lungo il percorso dei cittadini italiani quindi dovettero poi anche abbreviare alcune alcune soste insomma fu un po' più complicato di quanto avessero immaginato all'inizio come vedete i tempi sono scanditi con molta precisione ma in effetti poi nella realtà non fu del tutto rispettato questo 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 programma e se non sbaglio alle folle venne richiesto il silenzio che viene anche rispettato sì esatto dare un carattere ancora più solenne alla celebrazione e al trasporto del milite ecco io tornavo un attimo sulla questione dei mezzi diciamo sui veicoli per l'elaborazione del lutto perché questo fatto che fino ad ora tu non hai trovato riscontri in contesti europei anche se hai detto che devi finire di controllare ecco di fare ricerca su questo tema e Jantz stesso aveva trovato un'iniziativa simile solo in Israele vari decenni dopo perché in Italia abbiamo queste manifestazioni usiamo questi particolari veicoli per elaborare il lutto di Jantz di Jantz aveva ipotizzato ecco usando il termine di familismo di una dimensione familiare ben precisa di cui alcuni tratti si possono ritrovare nel contesto nel contesto israeliano tu sei d'accordo hai ipotesi differenti o ancora non ti pronunci io ci andrei un po' piano nel senso che è chiaro che il milite ignoto italiano rispetto all'analoga liturgia e percorso che viene fatto in Francia e in Inghilterra ha delle sfumature un po' diverse non richiamerò mai abbastanza l'attenzione sul fatto che la salma del milite ignoto in Italia viene scelta da una donna cioè si ricostituisce nella liturgia italiana il profilo della famiglia quello che Banti ha definito la nazione famiglia o la famiglia nazione se vogliamo giocare un po' con le parole altrove come sapete la scelta è aspettata a un militare a un uomo ribadendo quindi quel vincolo che è tutto maschile tutto militare che va oltre il perimetro del contesto familiare cosa che in Italia non è così cioè e in questo il milite ignoto italiano è una liturgia straordinaria e molto partecipata perché mette in campo paradigmi modelli morfologie del discorso patriottico che gli italiani conoscono molto bene e che hanno già fatto proprio ma questo sin dal risorgimento naturalmente questa è la cosa è la cosa molto molto interessante e che spiega anche il successo dell'iniziativa collaterale delle cartoline perché se no non sarebbe spiegabile credo francamente che questa particolarità del milite ignoto italiano sia un po' sottovalutata all'estero poco conosciuta anche dovermo impegnarci su questo fronte e dunque c'è un altro in realtà ci sono degli studiosi che hanno letto nella presenza nella figura di Maria Bergamas diciamo la particolarità italiana però riconducendola in una visione posso dirlo un po' stereotipata negli soliti italiani un po' mammoni scusate la traduzione un po' brutale non riflettendo sul fatto che proprio quella morfologia del discorso patriottico viene da molto lontano ed è quello che ha consentito a questo paese tutto sommato di reggere anche la prova della prima guerra la domanda storiografica a cui accennavo all'inizio del seminario che è volta appunto a capire come questo paese abbia affrontato e forse rimarginato questo discorso molto complesso le ferite le lesioni prodotte dalla prima grande prova militare del nostro paese è un tema enorme è un tema enorme e forse quella morfologia del discorso patriottico può fornire in parte una risposta qualcuno potrebbe dirmi sì certo ma da lì a un anno dopo il milito ignoto l'Italia esattamente un anno dopo l'Italia è sotto un governo il primo governo Mussolini quindi il paese regge ma fino a un certo punto ma non regge dal punto di vista politico degli equilibri economico sociali dal punto di vista culturale emotivo insomma qualche domanda viene fuori lo dico perché se penso alle generazioni che non hanno a quella memoria culturale per dirla con un con Asman che ha accompagnato la generazione dei figli o addirittura dei nipoti dei combattenti della prima guerra mondiale io stessa mio nonno è stato un combattente della prima guerra mondiale quel discorso patriottico nonostante il fascismo la seconda guerra mondiale la modernizzazione del paese è rimasto è rimasto se vedete le raccolte fatte per il centenario della grande guerra europeana e altre iniziative che chiamava raccolta ai cittadini italiani perché donassero tra virgolette cimeli iscritti o quant'altro c'è un po' la stessa cosa però non voglio avventurarmi oltre allora abbiamo altri due interventi il primo chiede posso chiedere se viene usato il linguaggio del martirio sì certo certamente certamente tra l'altro il tema del martirio vedete poi mi scappano di mano un sacco di cose un sacco di figli a raccontare questo progetto ad esempio il linguaggio religioso la cosa molto interessante che emerge da queste cartoline che di riferimenti alla fede religiosa non ci sono è un campo invece la fede laica è interessante vedere che ci sono tra i sottoscrittori moltissimi ovviamente cattolici ci sono però dei valdesi e anche ovviamente i cittadini di origine ebraica e tuttavia la religione tradizionale non è parte del linguaggio di queste cartoline esponenti del clero non ne hai trovati io per il momento non ne ho trovati ho trovato un pastore valdese questo sì Maurizio Maurizio interviene molte grazie per l'intervento ultimamente ti insiste molto sulla complessità e la lunghezza del processo di uscita dalla guerra che almeno dal punto di vista culturale non finisce con il silenzio delle armi questa bella ricerca sulla scrittura al milite gnoto come dialoga con questa proposta interpretativa le cartoline sono parte di un'operazione di distanziamento elaborazione dell'esperienza del conflitto o parlano anche di un trauma e di un'esperienza in qualche modo in qualche misura ancora presenti semplificando parlano di una guerra finita o di un conflitto ancora vivo almeno dal punto di vista culturale questa è la domanda da un milione di dollari ma coglie esattamente uno del diciamo dei centri sensibili di questa ricerca scrivere di un lutto non sono un asticanalista qui bisognerebbe ho tentato ovviamente di contestualizzare anche da quel punto di vista scrivere di un lutto è un modo un po' un tentativo perlomeno di superarlo quindi quelle cartoline sono un modo per esternare socializzare il senso della perdita ma al contempo proprio perché è un'iniziativa pubblica un'iniziativa solenne tende o cerca di ricondurla a senso e quindi per quel che è possibile di superarla però come ho detto prima penso a quei bambini che scrivono sotto dettatura e che hanno sei anni otto anni sono persone che poi vedranno altro chissà che cosa è rimasto di quel momento di condivisione del dolore per diciamo l'esperienza che ho avuto io parlando con persone che hanno avuto un padre un nonno o gli stessi reduci ormai non ce ne sono più ma anni fa della grande guerra quello è un percorso che questo Maurizio ha perfettamente ragione non si conclude certo nel 21 anche perché è rivitalizzato purtroppo dall'altra guerra che rimette in campo anche se con un contesto diverso finalità diverse rimette in campo il tema del dolore molto interessante vediamo se c'è qualche altro intervento curiosità o domanda intanto io ho una piccolissima curiosità questa mostra che pensi di organizzare con una selezione di cartoline beh immagino che tu stia aspettando che decanti un po' l'epidemia pensi di organizzarla con il museo l'idea è quella l'idea è quella perché sono stata contattata subito come voi sapete però i militari potrebbero essere mobilitati non solo per la distribuzione dei vaccini ma anche per in alcuni casi per la somministrazione per cui poveretti capisco che abbiano ben altri però la mia intenzione in ogni caso è quella di fare una mostra non con gli originali ma facendo delle riproduzioni questo consentirebbe di farla girare che non sarebbe sarebbe molto più semplice e di portarla un po' in giro per l'Italia e questa cosa della scrittura secondo me è una cosa che è giocabile anche nell'opera di divulgazione a vari livelli dagli studenti delle scuole medie fino agli universitari e agli studenti curiosi naturalmente sono scritture che non possono essere date in pasto scusate l'espressione senza nessuna perimetrazione metodologica introduttiva vanno ben sorvegliate però l'intendimento è quello lì e non ricordo se non sbaglio una parte circa 3000 di cui hai accennato sono già digitalizzate e disponibili magari ricordiamo un attimo dove così se è il sito 1418 ok e cioè il progetto prevede la digitalizzazione completa del fondo o vi fermate completa perché le cartoline sono oltre 30.000 e le abbiamo già digitalizzate tutte quindi appena possibile poi verranno riversate sul sito 1418 e punto anche alla trascrizione di queste cartoline su questo coinvolto sto coinvolgendo un po' di studenti del mio Ateneo affiancate peraltro però anche da una persona che per mestiere fa trascrizione di testi storici quindi di fornire anche diciamo del una lettura un po' più consentire una lettura un po' più agevole perché non sempre è facile decifrare la calligrafia generalmente sono scritte abbastanza bene però in alcuni casi non è non è facilissimo